bene ciao a tutti benvenuti in questa diretta di stasera vediamo un attimino che sia tutto a posto e poi partiamo stasera si parla di una strategia da copiare pari pari proprio la prendo la copio ok quindi state connessi aspettiamo che si connetta qualcuno in questo momento ma voi intanto rimanete qua fatemi compagnia chi c'è mi dica se si sente il microfono ditemi come state parlatemi un po nel frattempo io vado a verificare solo che sia tutto a posto sapete che devo fare ogni volta questa manovra poiché non mi fido di b live tv questo software che utilizzo anche se devo dire la verità che sono soddisfatto e comunque per quanto riguarda il format è differente per fare il video in diretta mi piace perché mi dà la possibilità di mettere questa maschera interattiva mettere i commenti insomma una cosa che mi piace però è proprio una questione di facebook facebook non è ok ci sono perfetto ok visto il commento di tiziano perfetto grazie ok allora benissimo intanto benvenuti buon lunedì a tutti quanti spero che abbiate passato un buon weekend io l'ho passato a lavorare come al solito ma questo a voi non penso non me ne freghi un cavolo allora oggi volevo parlarvi di una della strategia da copiare in realtà non è che io ho una strategia da darvi in questo momento è speravate voglio parlarvi appunto del copiare e incollare no e questo è un elemento molto importante per quanto riguarda il discorso strategie il discorso vendita sui social insomma il marketing comunque di base è una strategia ok c'è nel senso sono una serie di azioni che noi andiamo a fare per coinvolgere un pubblico un potenziale cliente e per trasformarlo da perfetto sconosciuto e farlo arrivare una persona che compra ricompra e soprattutto il nostro fans quindi come possiamo ciao francesco ciao a tutti e quindi è giusto o è sbagliato copiare quindi mettiamo cambiamo la headline ciao simona copiare giusto o sbagliato due punti eh che bello allora di base ragazzi come stavo dicendo il marketing è una strategia no è una strategia che mette insieme una serie di azioni che portano il risultato che una persona che non ti conosce riconosce compra ricompra e poi diventa tua fama e ti sponsorizza ci siamo questa è una cosa semplice ok è la base quindi possiamo anche dire per iper semplificare ancora che marketing è una strategia che ti porta a vendere ok quindi marketing vendita siamo lì è molto sbagliato no una volta c'era ancora il concetto sì ma io non devo fare marketing devo vendere questo questo era il concetto sbagliato io ho avuto anche a che fare con un mio titolare un tempo che mi diceva che lui doveva vendere non doveva perdere tempo col marketing in realtà eh il marketing è vendita e sono tutte quelle che cose che fai finché il cliente non sgancia i soldi va bene fino a qua è molto semplice quindi è giusto prendere una tecnica una strategia di qualcun altro copiarla e metterla pari pari in piedi allora il concetto di base ragazzi è che copiare di per sé è giusto è l'incollare che è sbagliato mi spiego meglio tu di base di regola devi partire da un qualcosa giustamente che ha fatto qualcun altro che ti ha detto qualcun altro che ti ha spiegato qualcun altro tipo oggi stiamo parlando di strategie per fare social selling quindi per vendere sui social partendo dai social di base devi fare quello che ti dico io giusto se mi ascolti fai quello che ti sto suggerendo ma l'errore più grosso è incollare quello che dico per esempio se io ti sto spiegando una tecnica che ho utilizzato nel campo dell'odontoriatria e tu per esempio sei un elettricista mi sa che proprio non ci stiamo capendo io sto cercando un mercato b2b tu stai cercando un mercato b2b insomma una serie di cose che ragazzi non funzionano quindi in realtà copiare è giusto perché tu prendi quello che ti dico io e lo copi perfettamente se tu prendessi semplicemente quello che io sto facendo oggi sui social e lo replicassi nel tuo settore non incollando esattamente quello che faccio io è chiaro che se ti metti qua in diretta con la mia scritta uguale e parli di social selling col simbolino di facebook è chiaro che non c'è stai copiando e basta non stai facendo la cosa giusta le mie cose sono fatte così per un determinato motivo ok cioè c'è un motivo perché utilizzo sti colori utilizzo sti simboli utilizzo sto format eccetera eccetera quindi tu puoi prendere l'idea come giusta ma non devi incollarla nel senso che devi riadattare tutte le strategie che pensi che siano utili nel tuo settore che ti insegnano che siano utili insomma dipende anche di base cosa fai tu per studiare quindi copiare sì ragazzi incollare no ma adattiamo il nostro stile a quello che abbiamo appena imparato quindi oggi volevo parlare appunto di questo e magari possiamo fare qualche esempio pratico però il concetto che volevo esprimere oggi e sottolineare era appunto quello di non fare l'incollatura di quello che avete imparato perché se io ti dessi mai una sales letter che ho utilizzato che mi ha generato 21 mila euro in 24 ore che avevo è stato questo è stato diciamo un mio un mio front end un tempo fa che utilizzavo per far vedere appunto che come si poteva replicare il processo no io avevo ho creato tempo fa delle sales letter che ho mandato a potenziali clienti freddi nel settore della metalmeccanica non so se voi da quanto tempo mi conoscete comunque io prima avevo una mia azienda di formazione e avevo creato il brand marketing industriale non una roba vecchia dove io siccome sono nato nell'industria e derivo da lì proprio nei secoli cioè dall'automotive ho collaborato con Audi BMW ho fatto lavori di quel tipo nell'automotive che è un po' diverso dal marketing che vedete adesso non è più un discorso strategico quello comunque a prescindere avevo creato queste sales letter per vendere i miei servizi di consulenza alle aziende manifatturiere questi servizi di consulenza erano i ticket quindi ti costava 8 mila euro sì 8 mila euro da 7 mila 8 mila comunque di fatto ho mandato 66 letter ho venduto tre consulenze quindi all'incirca 21 24 mila euro non mi ricordo preciso e chiaramente questo fa gola era una sales letter di nove pagine inviate via posta a clienti potenziali clienti freddi che non ho mai sentito che fossi ha convertito su 60 ne ho convertiti tre è un buonissimo risultato più o meno avevo dei tassi di conversione del 5 per cento che va già bene un buon tassi di conversione sales letter dal 2 al 5 quando sono fatti in un certo modo quindi questo era per vendere i miei servizi di copy ovviamente tutto quello che facevo prima comunque il mio il mio la mia struttura marketing la vendevo così quindi questa lettera in mano di nove pagine se io adesso te la regalo ma tra l'altro chi ha fatto il corso copy con me ce l'ha ce l'ha legata questa sales letter è oro colato perché è una sales letter da 21 24 mila euro ok generate in 24 ore quindi una cosa in un lancio cioè quanto mi può essere costato una roba così mi sarà costata neanche 200 euro tanto per fare un esempio da 200 a 24 21 fai 20 mila euro a 220 mila euro guardate che roi è c'è una cosa pazzesca con un margine attaccato sopra incredibile perché è un margine altissimo però se tu oggi prendi la mia lettera e la la usi proprio come metti la tua faccia e la vendi non funziona perché perché quelle 60 persone erano iper profilate era scritta quella lettera in base a un servizio specifico che avrei offerto a queste aziende profilate via dicendo bla 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 però il la struttura della lettera tu la potresti anche copiare riadattandola al tuo settore se il tuo settore ovviamente lo permette quindi diciamo che devi essere anche furbo in questo però potresti farlo ma non potresti incollarla ok quindi quante volte a voi sarà capitato immagino di copiare qua e là vedere questa cosa adesso lo faccio anch'io il post piuttosto che quindi copiare giusto incollare sbagliato possiamo fare altri esempi non so se avete se mi è mai capitato qualcosa volete dire qualcosa sono qua che lo possiamo discutere proprio possiamo parlare oggi parleremo di questo quindi del del copiare tra l'altro ne approfitto per dirvi che il 26 sì il 26 il 26 aprile ci sarà il webinar face fast quindi da domani lo lancio per chi non l'ha ancora non sa ancora cosa sia non l'ha ancora acquistato in prevendita domani parte il lancio di face fast che è il corso che ti permette di scoprire quali sono i fondamentali per vendere su facebook fare inserzioni su facebook per non bruciare budget quindi le cose un metodo pratico per fare inserzioni in sostanza ok fatta proprio velocissima un metodo pratico per fare inserzioni su facebook quindi andiamo proprio a vedere nello specifico schiaccia questo bottone piuttosto che quell'altro sarà una cosa molto tecnica c'è solo sul tecnico tipo tutorial un tutorial che ti spiega cosa fare ok come fare le inserzioni perché performino bene quindi per avere profitto le tue inserzioni e tra l'altro è molto collegato al corso le ads non servono un razzo che ti fa capire uno perché se stai facendo le ads male è meglio che non le fai l'altro ok tecnicamente fai questo uno ti parla più del format piuttosto che del target l'altro ti parla tecnicamente di cosa fare quindi farò anche una promo per comprarli tutte e due insieme chi ha avuto spacca social invece che era il pacchetto che prendeva tutto non si preoccupi che ha preso tutto a prezzo a prezzo di super promo non dico promo faccio delle super promo voi neanche me ne accorgete riuscite a mangiare il pesce e mangiate il pesce adatta caso con la panza piena poi non dite cazzo marco guarda che mega offerta mi ha fatto e invece mi dite no no non lo compro il corso e vado a mangiare il pesce siete tremendi comunque allora questo era diciamo quello di cui volevo parlarvi oggi l'incollare allora io ragazzi ho penso non riesco a mostrarmelo ma comunque ho un plico così così cioè una roba del genere piena zeppa di wifi manualistica di copywriting tecniche contro tecniche e proprio sto proprio lì sotto quei libri che ho e in più c'ho qua dietro tutto uno scaffale pieno di altrettanta roba che ho accumulato negli anni come un accumulatore seriale di informazioni che voi credete che io sono qua a parlare perché le cose le ho lette in un libro in realtà ho tutti i corsi che sono lì semplicemente ci saranno centinaia di migliaia di euro di scaffale sbobinati messi lì ordinati insomma tutto un lavoro da psicopatico che ho fatto negli anni per 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 migliorare in questa professione quindi in realtà mi basterebbe strappare una pagina e mettermi in realtà no è l'aver studiato bene delle strategie precise avendole testate ritestate continuando testarle tirandone fuori quelle che funzionano quindi c'è un sistema sì c'è un sistema che si può copiare sì c'è un sistema che si può incollare no quindi il sistema da copiare però c'è di quello che discuteremo di quello che che farò vedere in realtà nell'academy non so bene quando lo lancerò sicuramente a maggio quando lancerò l'academy ci sarà tutto il sistema passo passo per creare un business online ma non è che io ve lo spiego e basta sto giro io adesso sto già preparando un business per i fatti miei e lo sto documentando per poi metterlo nell'academy quindi tu imparerai su quello che io faccio ecco lì potrei metterti lì e copiare tutte le mie azioni adattandole al tuo mercato la tua nique tuo potenziale clienti i tuoi clienti va bene ragazzi non vedo commenti non so se si sono bloccati perché ogni tanto devo devo controllare intanto vado a vedere sul sulla pagina oppure oggi vi siete ammutuliti se oggi siete muti va bene ok ragazzi dai in privato va bene ragazzi allora io lo sapete come sono faccio questo diretto appunto perché non mi dovete scrivere in privato però poi perché interagite in diretta cosa state a fare lì ho l'autofocus che fai capire c'è ragione succede se se mi muovo troppo velocemente mi fa mi fa l'autofocus male ma è sempre per il discorso che sono sono digitali in realtà potrei attaccarmi alla videocamera e fare un discorso fatto meglio ma veramente c'è da fare dietro un lavoro pazzesco nel senso che bisogna uscire dalla piattaforma creare uno streaming webinar che si è collega a facebook tramite api e però ci va insomma qualcuno che ti faccia regia perché se no vieni matto per farle così bisogna utilizzare le fotocamere digitali infatti questa qua che sto utilizzando una buona fotocamera però al problema dell'autofocus devo cercare di stare più fermo possibile se mi muovo è finita la e quindi le parei ragazzi e va bene allora intanto vi è chiaro il discorso strategia copiare un incolaccio voi oggi avete il cervello sicuramente che è strapieno di informazioni perché io sento parlare sento informazioni dalla mattina alla sera sento anche un sacco di cazzate ecco perché bisogna mettere in moto bene il cervello cioè in realtà bisogna seguire il più possibile ok per rimanere sul pezzo ma come dico sempre cercare una strada unica perché se ti metti lì a provare e riprovare tutte le strategie di sto mondo non esci più bruci solo soldi e per di tempo e sei confuso però gli occhi aperti su quello che succede bisogna tenerli perché dal momento che ti chiudi nella tua nel tuo mondo nelle tue cose e non vedi quello che succede vai a scatafascia ne parlavo guarda ne parlavo giusto sabato sera con un amico che praticarti marziali no e sullo stile orientale io non so se lo sai ma anch'io sono uno praticante di arti marziali ho fatto sempre un'arte marziale chiamata capoeira che è un'arte marziale brasiliana e ha poco a che fare con la filosofia orientale cioè sì ci sono sempre comunque la radice dell'arte marziale è quella comunque si parlava del fatto che è molto connesso no i gruppi di arti marziali gruppi sportivi sono connessi ugualmente ai gruppi su facebook ai gruppi di marketing è sempre la stessa cosa comunque si parlava del fatto che lui fosse deluso dal suo maestro attuale e getto condomi sembra che sia la specialità di cui si occupava e si è messo a allenarsi da solo e sono mi diceva sono due anni che mi alleno da solo però lui mi fa mi alleno costantemente il discorso è qual è che tu poi si mettesi lì su youtube copiare tutte le tecniche riprovare però il fatto di non essere in un gruppo di non girare di non avere gli occhi aperti su quello che succede automaticamente ti chiude ti chiude poi non se non è non sei più sul pezzo non sei più sul pezzo non è non è il polso della situazione per quanto riguarda quello che sta succedendo nel tuo settore e quindi non va bene per stare sul pezzo ragazzi dovete avere gli occhi aperti e le orecchie bene spalancate si ascolta quello che succede nel settore si prendono le proprie decisioni e si segue soprattutto una linea è chiaro no non si possono fare ecco parliamo di arti marziali facciamo il paragone di arti marziali non puoi fare dieci arti marziali tanto sono sempre arti marziali no devi seguirne una però l'occhio c'è quando parli lo scambio di opinioni magari guardare un video non ascoltare che ti dice di non fare queste cose sono cazzate quindi la cosa è rimanere sul pezzo vedi che le cose poi sono collegate sarà incredibile io ho avuto un gruppo per parecchi anni adesso ho smesso di insegnare per questioni di tempo no però ho avuto il mio ho avuto il mio gruppo per parecchio tempo eravamo anche parecchie persone e è praticamente identico ad avere era stato identico ad avere un gruppo online una community online gli stessi problemi le stesse dinamiche che succedevano gente che esce i fan che ti portano gente i fan che poi diventano tuoi concorrenti è tutto uguale funziona sempre nello stesso modo le dinamiche delle community dei gruppi sono sempre identiche ecco perché un po' ho di mistichezza con queste cose perché lo faccio da una vita anche offline mi viene abbastanza spontaneo ti potrei dire esattamente il perché quali vantaggi hai aprire una community online fare un gruppo facebook ma ti posso anche dire tutto quello che non che non va bene delle community online magari su questo ci faccio poi un video che è interessante cioè i pro e i contro di una community online può farti guadagnare parecchi soldi ma ti farà perdere tantissimi tantissimo tempo e avrai tantissimi problemi cioè quindi ci sono i pro e i contro non esiste avere solo pro per esempio non ho una vera e propria community del social selling per adesso sto facendo queste dirette e l'interazione sulle sulle mie pagine e poi io do a chi è mio studente ovviamente delle della formazioni in più via mail però non ho un gruppo aperto di social media marketing social selling eccetera eccetera perché perché mi è capitato nel settore odontoiatrico avere un gruppo e tirare l'engagement di un gruppo se la tua nicchia non è una nicchia molto partecipativa che ha molto tempo per dei dentisti non hanno tempo di fare engagement non ce l'hanno non lo fanno perché loro attaccano le otto e mezza hanno curano e operano tutto il giorno magari si riescono a connettere in pausa pranzo cinque minuti la sera una mezz'oretta ma in quel tempo magari si leggono i post leggono scrollano non hanno tempo di mettersi a fare conversazione live chiaro che se ritiri in una diretta e l'organizzi bene e fai una serie di cose sì perché si prendono appuntamento però di base è un gruppo io ce l'ho e ha dentro quasi 600 persone c'è più di 500 persone ha un engagement bassissimo e questo non per colpa mia perché i contenuti quelli sono che do ma per il discorso proprio che la nicchia differente quindi in realtà mi prende un sacco di tempo mi porta poco però di pro c'è che il gruppo ha un tasso di apertura altissimo anche un tasso di copertura organica alto se tu hai delle persone dentro un gruppo facebook ti dà più organica lì dentro cioè in poche parole se pubblichi un post quasi tutti lo vendono differente invece che sulla pagina per sponsorizzare dovrai metterci grano ma attenzione anche qua il buon mark facebook arriverà a far sponsorizzare aspetta lo metto anche qua il buon mark farà sicuramente sponsorizzare i gruppi facebook cioè non ci vorrà molto ragazzi ovvero farà pagare la possibilità di avere visibilità nei gruppi quando avrai un gruppo grosso sarà come avere una pagina ma lo prevedo e non lo so per certo ma lo prevedo perché mi sembra un passo una conseguenza abbastanza chiara nel senso nel passo dopo è quello lì chi ha gruppi grossi cercare di monetizzare anche perché facebook cercherà di spremere ancora più possibile già sta facendo un discorso di pulizia enorme quindi sta facendo entrare nuovi inserzionisti e tiene gli inserzionisti che si comportano bene che hanno un quality score alto che spendono che sono seguiti eccetera eccetera quindi per chi ancora non ha questa concezione i social sono il nuovo media pubblicitario e bisogna approcciarli adesso perché più avanti andrà nel tempo più dovrai ripartire da zero ti costerà una fortuna in america in usa sponsorizzare costa a volte dieci volte che in italia fatti fatti proprio fatti calcoli per via della concorrenza quindi meglio iniziare adesso creare la propria base eccetera eccetera va bene ragazzi mi sono dilungato anche troppo volevo parlare soltanto di copia incolla perché si è collegato adesso il discorso era ok copia copia devi essere un copione c'è tutto quello che vedi lo devi copiare quello che fa marco doria copialo ma non incollarlo ok te lo rielabori e te lo fai funzionare meglio poi ciao gino ciao benvenuto io ho 22 minuti che parlo tu arrivi adesso e si parlava appunto di copiare ma non incollare ok l'incolla è un riadatta quindi copia e riadatta prendi quello che faccio io copia copia tutto quello che faccio e poi se vuoi migliorare che non ce la fai da solo ti spari una bella consulenza privata con me oppure ti compie social academy che sta per uscire social selling academy tra poco intanto c'è la possibilità di acquistare i webinar quindi se ancora non avete fatto ragazzi sparatevi il corso gratuito che trovate sul mio sito marcodoria.com risorse gratuite fatevi il corso gratuito smettila di fare le ads che da lì entrate nel mio bellissimo funnel così ve lo copiate guardate come perché l'ho cambiato un po c'è anche il bot che vi risponde e vi porta a comprare il mio corso scusa le ads non servono un razzo il corso ti arriva a casa così avrai il dvd più il manuale la bibbia delle ads ok è già chiuso beato te beato te ciao fabio sì 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 oggi abbiamo parlato di copia e incolla beh tu bene o male seguendomi già da un po sai come la penso che copiare va benissimo ma incollare no è riadattare riadattare voi dovete sempre ragionare sul vostro posizionamento che tra l'altro questo è un discorso che vorrei vorrei affrontare un po meglio quello del posizionamento perché il posizionamento è essenziale tu devi posizionarti come azienda ma anche come comunicatore se comunichi ok la comunicazione è quella cosa che ti differenzia giustamente nel mondo perché se dicessimo tutti una sola parola non ci sarebbe interpretazione in realtà il fatto che noi abbiamo la possibilità di esprimerci di comunicare questo ci differenzia dalle altre persone bravissimo fabio il famosissimo io non sto con copia incolla ok del mio corso copi che adesso tra l'altro non è più disponibile va attaccate chi l'ha comprato l'ha comprato poi vedremo se rimetterlo in vendita per i negozianti il corso copi per negozianti ok quindi non c'è più per adesso chi se l'è preso se l'è preso chi non se l'è preso se l'è presa e continuate voi la frase comunque detto questo è vero perché tu non devi incolle cioè se io ti do dicevo prima la mia 6 letter che ha generato 20 mila euro in 24 ore 9 pagine di 6 letter te la copi cambiando solo il nome non vendi non vendi ci metti guarda tutto quello che vuoi ci scommetto che tu non vendi però se tu prendessi la mia 6 letter e copiassi la mia strategia riadattandola quello che fai chiaramente potresti ottenere dei risultati ok ci sono no per adesso abbiamo deciso di toglierlo dalla vendita però è rimasto nei corsi in vendita quindi vedremo vedremo cosa fare stiamo discutendo per adesso in stand by è anche vero che non è un corso che va rinnovato ok però è molto specifico infatti non cioè se non siete negozianti è inutile ve lo comprate però vogliamo vedere se rifarlo migliorarlo lasciarlo lì vedremo vedremo chi vivrà vedrà e comunque parlando di posizionamento il posizionamento è quello che vi differenzia ok sul piano comunicativo sul business insomma dovete sempre essere differenti cioè una cosa su cui punto molto essere originale differente originale differenza se uno fa una cosa non c'è non dovete stare lì a copiarla copiate l'idea e a riadattatela ok fate la maniera differente quindi anche quando una persona parla ok deve posizionarsi qual è il mio posizionamento come formatore il mio il mio posizionamento come formatore è che ti dico fermati la bello bello devi metterti lì e devi imparare quello che serve per ottenere risultati subito ok quindi la base quel 20 per cento che porta 80 per cento risultati io come formatore ti dico frena ok frena fermati togliamo un po' di merda che la testa facciamo il prossimo movimento così non chiuderti nelle sette non metterti lì solo a vedere una cosa perché oggi informazioni sono da mettiti qua prendi e fai le cose semplici poi la complicazione ce l'andiamo trovando lo step 2 prima prima è semplice vedo parli delle persone che partono dal complicato no esatto fabio dice anche perché se si copia e basta non si impara niente altro devo vedere se si vedono i commenti perché sto stronzo di programma ogni tanto se mi sa di no mi sa di no ok quindi ve li dico io a voce ogni tanto io metto per far apparire i commenti ma non va bene ragazzi andiamo a togliere ok non me lo fa vediamo non me lo fa perfetto quindi no è il posizionamento importante quindi la comunicazione deve essere sempre cioè tu devi quando parli quando comunichi devi sempre comunicare il tuo posizionamento a si vedono questo si vede in sovraimpressione perché io qua nel mio nel nel mio preview non lo vedo francesca vabbè devi sempre comunicare il tuo posizionamento del posizionamento del tuo brand cioè quello che tu fai per comunicare coi tuoi clienti se non lo fai sbagliato deve essere sempre una comunicazione che è posizionante io ti dirò sempre che devi fare le cose semplici e bla 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 che è il mio posizionamento io ti dirò sempre che sono specializzato in social selling ovvero che i social oggi sono il punto migliore ma se un'altra persona che fa marketing ti dicesse che i social non servono un tubo devi scrivere le sales letter a mano e consegnarle a mano oppure andare a spaccare le porte a testate come si faceva una volta per vendere non è che io sono un coglione lui è un coglione attenzione cioè facciamo chiarezza sul posizionamento è che io ho un posizionamento e tu ne hai un altro ok ma di base il marketing se parliamo di marketing è sempre vendere quello che dicevo prima la radice del marketing è la vendita quindi è molto complicato andare a dire questo è giusto questo è sbagliato quindi questo lo copio com'è a questo io devo copiare nel senso che devo prendere le cose già fatte le cose semplici all'inizio le cose complicate dopo e devo adattare il mio settore ma di base uno che fa merenda lo dice ma ho un'esperienza guarda io ho le idee abbastanza chiare su su chi chi segue allora gli insegnamenti che fa lui sono non so se si vedono ovunque tiziano dice uno che fa merenda lo dice ma un'agenzia di spedizione di posta sì merenda un formatore non mi frega niente di parlarne non ho nessun problema ciao francesco che vai via è l'agenzia di spedizione di posta sì loro avevano un business parallelo che faceva quello poi certi se ne sono andati insomma casini però lui loro ti dicono di veramente loro sono della linea chiuditi la nostra sette e basta va bene cioè fate quello che ti pare io io la mia è il mio posizionamento ok poi c'è chi ti chi ti dice invece spedisci le cose a mano va bene va bene prova funziona l'hai fatto hai fatto bene hai fatto solo quello però non è che stai facendo un po uno un po l'altro un po uno un po l'altro ma è una cosa fatta bene ok ascolta anche gli altri perché non siamo una religione noi non siamo una religione siamo persone che ti dicono come ottenere risultati io sai quante stronzate anche sento però non è che posso mettermi lì e dire allora bollettino delle stronzate allora oggi ho sentito tal formatore che dice sta minchiata a volte l'altro è andato a tiziano dice preferisco far pranzo che merenda e vabbè scelte scelte ma le scelte non sono mai sbagliate uno fa dov'è che ottieni più risultati dov'è che ti trovi anche meglio tu c'è anche da dire una cosa no devi anche vedere con chi ti trovi bene come persona se a tuo agio con le persone che ascolti se a tuo agio ti senti bene le persone che seguo io per dire quando seguo delle persone degli americani che mi piacciono è perché mi trovo bene come loro insegnano il marketing mi piace ascoltarli cioè arriva un punto che sono contento di ascoltarli purtroppo in italia non capita perché facendo parte di questo settore da anni ho la nausea quindi tant'è però fabio dice bisogna sentire più campana e poi si valuta e si sceglie concordo ma sì sì è così fabio guarda io lo dico contro i miei interessi e cioè di base sarebbe molto meglio che vi dicessi dovete seguire solo quello che dico io tutto il resto è una merda ecco no scherzo non è così non è così sarebbe una cretinata di base tutto il marketing parla di vendita quindi sfido chiunque a dire che uno non ha copiato l'altro e cioè stiamo parlando di cosa cioè l'unica cosa di fare è che devi trovare una cosa che ti piace che hai provato e ottenuto risultati a parte mia il consiglio che posso dare partire sempre dalle cose semplici e poi la sofisticazione cercare uno step successivo però devi trovarti bene devi trovarti bene con la persona che ti spiega devi trovarti bene con la cosa che stai facendo e sono una serie di cose ovviamente ti devi mettere lì e fare il culo perché poi è vero che trovi quello che ti dice come fare i soldi grattandoti le morroidi tutte le mattine senza neanche aprire il pc e però lui lo fa aprendo il pc lavorando tutto il giorno cioè è pieno di gente così ci sono questi qua sono i cazzari boh cazzari ci sono ci saranno come ci saranno nel vostro lavoro chissà quanti cazzari ci sono però poi ci sono anche chi invece è posizionato una maniera differente tutto qua poi poi sapete cosa c'è si vende molto meglio ricordatevi questo il fatto che tutti non capiscono un cazzo piuttosto che dire ok ti piaccio vieni fai quello che dico io non ti piaccio segui in un altro ma perlomeno fallo è molto più facile vendere l'altra le religioni cosa fa la religione ragazzi vi dice devi ascoltare solo quello che ti dico io e devi ammazzare tutti quelli che non la pensano come noi più diventi religioso più sali di scalinata fai la tua bella setta finché non diventi super minchia turbo power e avrai la vita eterna ma poi non ce l'avrai mai guardate guardatevi il video di scienziologi che io già da liceo avevo fatto lo studio delle sette dei piramidali ecco perché io non seguo il network marketing per dire perché mi ricorda troppo gli schemi delle sette così non mi piace cioè concordo che il network marketing è una realtà che ti può anche far guadagnare dei soldi ma non mi a me non piace non parlo di network marketing mi dà fastidio e non voglio gente che parla di network marketing però è anche successo che in passato abbia fatto dei servizi copy per loro più di una volta non mi piace punto fine però se tu ti guardi quel documentario che parla appunto delle sette delle religioni la stessa cosa cioè l'indottrinamento è quello è per quello che io dico ragazzi sveglia occhi aperti rimaniamo sul pezzo vediamo di fare le cose che servono andiamo di trovare risultati eh insomma però eh propria testa e propria maglia ecco perché non mi piace troppo la motivazione tu devi essere motivato tu devi andare avanti per la tua strada io al massimo sono quello che ti fico a due calci nel culo da dietro ma non è che sono quello che ti deve tirare dall'avanti io ti fico i calci nel culo perché io sono di quella sono di quella scuola lì che è meglio un calcio nel culo che una mano tirata ragazzi sarà troppo posizionante come dicevo prima però è così Elisabetta sei sull'autobus bene Zacchetto dice che non avrò mai l'elicottero eh lo so tanti formatori ce l'hanno però avete notato hanno hanno un cazzo di base eh perché io poi li conosco cioè io so che non ce li hanno i soldi e non ti direi che me la meni però un modo di vendere delle cose è far credere che tu hai ottenuto dei risultati straordinari adesso hai un sacco di soldi perché hai fatto questa determinata cosa ma quando in realtà non è vero e potrei spiegarvi anche come fanno i formatori eh che non posso fare noi perché mi querelerebbero subito per far ottenere risultati agli altri cioè te la spiego semplice come se tu ehm vieni da me mi dici guarda io voglio eh voglio nella vita il mio sogno avere ehm un cavallo da diecimila euro no e non me lo posso permettere allora io ti ti compro il cavallo formatore te lo compro e poi tu mi paghi facendo delle cose per me e potrai dire che ce l'hai e diventi un mio caso studio però tu in realtà io in realtà ti faccio solo il leasing questa cosa lo paghi tu lavorando easy oppure mi ridai i soldi del leasing però è sempre intestato a me cioè eh ho dovuto usare il cavallo perché non posso usare dei riferimenti specifici perché se no si capisce chi è però per farvi capire ragazzi eh cioè potrebbe essere la villa con la piscina potrebbe essere qualcos'altro no oppure quelli che vedi che hanno sono sempre in piscina cioè ragazzi anch'io ehm dietro lo studio ho eh il club tennis con la piscina dove io quando eh d'estate in pausa pranzo vado mi svacco se facessi un video al giorno in piscina voi cosa pensate pensate potete pensare che cioè miliardi in realtà eh vado a pranzo mi posso fare un tuffo esco e torno a lavorare perché comunque ragazzi la vita è rompersi il culo non esiste sta storia delle quattro ore for hour week non esiste non esiste chi la vende vi vende l'idea e poi lui lavora cento ore al giorno è così è chiaro che si può avere uno stile di vita migliore si può migliorare si può avere più tempo libero ma di base ti devi rompere il culo soprattutto per far funzionare tecniche cioè volete provare voi a stare una giornata con me io un giorno lo metterò in palio una giornata di social selling con Marco Doria e secondo me a metà giornata ve ne scappate Zacchetto dice sì sì bravissimo Fabio bisogna spalare la merda quanto volte lo dico spalare la merda le mani nella merda ecco un altro mio posizionamento che rispetto agli altri formatori io sono uno di quelli che ha messo le mani nella merda ragazzi ho fatto business in quasi cioè non dico ma in centinaia di nicchie ho lanciato business in più nicchie ho ottenuto risultati in tantissimi settori ho le mie strategie che funzionano e continuano a funzionare sono online da una vita lo sapete cioè questo questo è il mio posizionamento poi c'è quello che spunta dall'oggi al domani te lo vedi che spara col Ferrari eh minchia ho i soldi so io come fare i soldi comprati il mio corso se lui venderà il suo posizionamento è quello però poi bisogna vedere se sta in piedi quindi boh puoi anche ascoltare quello che dice magari dice qualcosa di buono che ha letto in un libro per carità però bisogna spalare eh sì questo qua è un valore è un mio grosso valore non mi sono mai occupato troppo io ciao fiorella non mi sono occupato troppo di eh fare eh la web star nella vita ho sempre lavorato ok perché perché comunque con la mia attività da consulente guadagnavo bene boh volevo fare bene quello avevo il mio business online mi sono ho sempre avuto nicchie piccole ma che hanno che hanno una grossa resa sempre non c'è non sono specializzato è non so montemagno che ha un engagement una 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 grossissima nicchia scusa una grossissima base di persone che lo segue cioè proprio eh è una web star però monetizza male è ovvio che magari il suo monetizzare male è già tanto eh eh però dico monetizza male perché lui non è posizionato eh come me io ho delle nicchie più piccole magari in più settori dove le spremo di più come business perché uso i ticket do eh sono focalizzato in delle cose specifiche non parlo di tutto mh parlo di una cosa specifica che è social selling e do informazioni che io stesso pago al toccare testato da una vita ad alto prezzo è eh differente dal posizionamento di Montemagno ma senza parlare di uno specifico però per farvi capire le differenze lui ha investito eh fior di soldi comunque sicuramente eh due trecentomila euro le ha investite per eh arrivare un engagement così e si è fatto un culo quadrato e non ha mai monetizzato niente mai è è differente eh capite capite la logica però non è che quello che dice lui il suo posizionamento è giusto è sbagliato è differente dipende tu quello che vuoi fare se tu eh vuoi metterti lì e dare contenuti gratuiti parlando di tutto devi avere un sacco di soldi perché il la base della piramide vi ricordate la piramide la piramide la piramide è enorme quindi devi avere un sacco di conoscenze un sacco di presenza nel senso che devi saper parlare essere confidente con con tanti argomenti e quindi devi essere sul pezzissimo ehm devi mettere tanti soldi in sponsorizzate perché guarda il vostro sicuro è che per avere una condivisione del del tuo materiale oltre essere un materiale interessante oltre eh essere eh stato capace di farlo devi eh metterci un botto di soldi cioè sponsorizzate Montemagno come minimo ha speso trecento due trecentomila euro eh per arrivare a avere qualcosa cioè lui probabilmente quando ha venduto blogosfere ha preso una parte di quegli investimenti ipotizzo eh ma eh non penso che ci sia un investitore dietro lui ha fatto un exit buono avrà preso una parte di quei soldi e avrà detto ok eh adesso eh sfrutto questi questo investimento sulla mia immagine e ha fatto quello che ha fatto questo è cioè non mh i social non sono un'opinione ragazzi sono una matematica e te lo posso dire per certo perché io ho dei tools particolari che mi hanno il monitoraggio delle delle pagine mi dicono quello che è successo io deduco eh come la borsa non so cosa è successo in quel periodo so come ha fatto una determinata persona a avere risultati in quel periodo perché bene o male riesco a vedere quanto investito come investito cosa ha fatto in quel periodo ci sono dei cazzari che sono dei cazzari proprio che conosco anche di persone che eh in certi periodi comprano botte di like hanno un engagement della madonna e però comprati cioè comprati in Bangladesh poi io io vedo i grafici vedo dove la maggior parte dei tuoi fan Bangladesh voglio dire la famosa piramide sì 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 va bene ragazzi quindi in realtà allora ascoltate orecchie aperte per rimanere sul pezzo se poi vi piace la formazione meglio ancora eh applicate per favore quindi quello che è applicatelo ma riadattandolo a quello che fate voi ehm è importante che ci sia la parte di ascolto poi farò anche un video di questo è la parte di ok adesso faccio la parte di ascolto è lo studio ok ascolto ascolto quello che dice cerco di capire mi metto lì carta e penna cosa devo fare cioè guardate le mie lavagne a parte che le uso anche per fare formazione eh privatamente però eh sono sempre lì che me la studio io sono lì che me la studio con carta penna mi piace a me piace lavorare sia mi conosce lo sa sui fogli gialli che ho sempre in gran quantità sia sulla lavagna quindi il mattino mi occupo più della parte strategica delle mie cose dei contenuti che devo creare e il pomeriggio eh invece sono più sulla parte di produzione c'è scrivo registro per dire adesso sto preparando il lancio di di face fast che sarà il corso che ti permette di capire cosa devi fare per fare sponsorizzate che prendono che hanno profitto quindi in realtà un corso pratico e dopo questo c'è instastat il corso di instagram e da lì chiudo chi deve fare le consulenze come le fa ma da lì basta perché ci sarà l'academy l'academy che va ai ticket quindi adesso sto preparando questo poi ci sarà l'academy che che mi occuperà un po' più di tempo come sarà l'academy di base ci saranno sei barra sette corsi grossi dentro un corso unico quindi è tutto praticamente a scatola è la scatola che contiene un business sui social cioè tutto e non che te la racconto ma ti faccio proprio vedere cosa faccio io per tirare su un business e lo dimostro ti farò vedere anche i numeri ti farò vedere ai numeri i soldi gli investimenti che ho fatto quindi in realtà è proprio quello che ti serve da metterti lì copiare giustamente e adattare a quello che farai tu poi forse ci ficherò dentro una cosa bellissima che sarà una cosa a parte oltretutto tutto quello che c'è c'è scato tu compri tutta la scatola praticamente probabilmente saranno materiali che ti arrivano a casa anche ok da studiare proprio manuali da studiare passo passo cioè poi inizi la pagina 1 devi finire all'ultima pagina quindi fare le cose così avrai il tuo bel quadernone ti metterai lì ok dentro ci saranno anche comprese del certo tipo di licenza insomma deve essere una cosa che ti permette di costruire un business sui social partendo da zero quindi anche farti le pagine vendita farti il sito c'è tutto passo dopo passo cosa fare e e poi non so se farlo ma ci sto pensando alla fine voglio proprio mettere il la possibilità di costruirti un business di video corsi come come i miei dopo tutto se tu volessi riadattare la cosa e vendere anche video corsi quindi penso che nell'academy ci sarà tutto c'è tutto tutto persino come fare video corsi e ovviamente questo ha un alto valore ragazzi poi chi ha comprato i miei corsi questi webinar sicuramente avrà l'agevolazione lo sapete per chi non ha comprato il webinar no il prezzo è mille non si scende e anche il lancio è mille 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 poi chi lo vuole invece con la mia consulenza raddoppia questo sarà e quindi quello questa è un po la mia giornata eh i posizionamenti eccetera come dovete avere anche voi io non so come siete organizzati con lo studio con la comunicazione però va fatto eh cioè c'è il tempo di studio il tempo di produzione il tempo di comunicazione il tempo di lavoro cioè va bene bella sta diretta stasera mi è piaciuto ho parlato di cose interessanti che sono uscite da soprattutto la copia e incolla perché ancora non l'ha fatto ragazzi fatevi sto cazzo di corso gratuito che trovate sul mio sito www.marcodoria.com risorse gratuite smettila di fare le azze va bene ok ragazzi da allora ciao mi raccomando posizionatevi non posizionatevi all'angolo della strada sotto un ponte ma posizionatevi sul mercato ok ricordatevi che il posizionamento non è tu sei un pezzo di merda e non capisci un cazzo mio vicino di casa e io sono figo ti dico le cose giuste posizionamento è prendere una strategia e metterla in pratica ok soprattutto prende una strategia diversa quindi non copiata e incollata ma copiata e riadattata e metterla in pratica testarla e metterla in pratica non non è molto diverso da così ok la semplicità è questa è chiaro che tu ha tu immagina di avere un bar ok un bar bello un bar che fa solo cupcake no rosa come ti viene in mente di fare le dirette durante l'orario ma in realtà sto testando gli orari migliori per avere più engagement tutto qua questo non è un orario buono è quasi un'ora che sono in diretta figurati però poi quelle programmate tra un po tra un po che ci sarà il lancio melissa di face fast la farò fare un webinar alle 21 ma questo lo preparerò ve lo dirò prima e tutto quanto però adesso che apro penso che più o meno le sette l'orario migliore va bene e quindi niente oggi abbiamo imparato questa cosa molto figa se non vi avete visto il video vedete c'ho le corna ma nella vita non lo so adesso in testa bu volarsi sì ma come diceva qualcuno siamo tutti cornuti che dobbiamo fare perlomeno incorniamoci come si deve a vicenda ok va bene stiamo facendo l'esempio ecco ho perso il filo e poi chiudo eh ho il bar ok ho un bar rose che fa solo il cupcake bell'idea io lo guardo dico figo che faccio lo copio se lo copio uguale magari me lo metto di fronte faccio un bar rose che fa il cupcake secondo te sto facendo la cosa giusta o sto facendo una grossa minchiata oppure dico ok non glielo apro davanti ma se lo apro dietro l'angolo così non mi vede è una cosa furba no è chiaro che non è una cosa furba se vuoi fare una cosa furba dici guarda si è specializzato in cupcake ha fatto un negozio tutto rosa che dici magari faccio un bar specializzato in donuts e lo faccio blu i donuts sono quelle ciambelle rotonde ok o in muffin e lo faccio marrone merda è un modo di dire perché hai fatto questa diretta in quest'orario non ti ho potuto subire ah ok ma no ma tu parla come vuoi melissa ciao dalila c'è anche tomi lì benissimo gli hai dato anche il ring oggi occhio dare troppi ringo perché poi dopo non ti dorme vedete come sono bravo anche quei bambini la gente dice marco dolla misantopro cattivo stronzo antipedice io sono bravo sono bravo anche quei bambini dovrò fare formazione marketing ai bambini perché devono imparare subito a capire come si fa la grana che mi crescono rincoglioniti da invece no non è subito imparare a fare soldi la nuova generazione tra l'altro sarebbe una cosa figa secondo me c'è c'è già qualcuno che l'ha fatto se non sbaglio alfio comunque il discorso l'educazione finanziaria per i bambini c'è sono cose dette ai genitori per insegnare ai propri figli a parlare di soldi l'approccio al denaro che non è sbagliato in america qualcuno lo fa una figata l'approccio al denaro è importante all'imprenditoria è importante perché l'approccio italiano è senti non fare un cazzo tutta la tua vita cerca di fotterla la mutua il più possibile soprattutto ruba che è meglio questo è l'approccio italiano no il tutto tutta l'estrazione comunista dell'avere non fare che che ancora insegna questo ragazzi no ma tu hai diritto a tutto non devi fare un cavolo e avrai voti di cittadinanza a scuola di fatti oggi non si neanche più bocciati io prendevo certi ceffoni che me li ricordo ancora adesso però in america invece c'è proprio l'indottrinamento all'imprenditoria ovvero è vero che lì pompano a essere il numero uno e da un'altra parte potrebbe essere un'esagerazione no però cazzo ragazzi il fatto anche di indottrinare un po le nuove leve al fatto di fare imprenditoria capire cosa è il marketing i soldi insomma è già dall'elementare che dovrebbero parlare di queste cose così comunque non ci troviamo dei rincoglioniti che fanno che vogliono il loro obiettivo nella vita fare il parassita va bene prima che mi sale mi parte l'embole e parto comincio a bestemmiare va bene ragazzi dai ci vediamo domani comunque vi ricordo che sta partendo il lancio per face fast che sarà il corso tecnico su come ottenere come creare inserzioni facebook che performano cioè tecnico quindi quello che c'è da fare tecnicamente clic 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 scrivi questo scrivi quell'altro chiudi e vai a dormire ci sarà il lancio quindi parlerò di questo vi arriveranno delle mail che parlano di questo se ce l'avete già tra l'altro ragazzi ho preparato un'immagine di copertina del corso face fast che fa scassare se ce l'avete se l'avete già comprato perché l'avete preso in promo perché se fate parte del marco doria del marco doria funnel va bene quindi ok però ci già ci c'è non l'hanno preso tutti quindi se non avete fatto compratelo va bene ragazzi arriveranno le comunicazioni in questi giorni buona serata buona cena io tanto adesso ne ho ancora da fare qui quindi sono qua va bene ragazzi statevi buone buona serata ciao e no giro dice basta vendere sempre i tuoi corsi male devi sempre vendere dieci cose gratuite e una me la paghi ok ciao ragazzi buona serata divertitevi